Manierismo, un termine generalmente impiegato per definire l'arte ricercata dell'Italia del XVI e del XVII secolo, indica una corrente che si sviluppò nelle corti reali d'Europa e in particolare in Francia, presso le quali molti artisti italiani trovarono sostegno. Elegante, decorativa e volutamente artificiosa, l'arte manierista si rivolgeva a un pubblico istruito d'élite e la sua consapevole raffinatezza prendeva le distanze dall'armonia caratteristica degli artisti rinascimentali. L'orafo e scultore fiorentino Benvenuto Cellini, noto anche per la sua arroganza e coinvolto in fratti criminosi, attrasse su di sé i favori di personalità ricche e potenti, assecondando i loro gusti decadenti. Per lui essere un artista non significava più essere semplicemente il proprietario di una bottega, significava essere un virtuoso per le cui opere principi e cardinali dovevano competere. La splendida saliera d'oro che Cellini realizzò per re Francesco I di Francia è una delle rare opere che sono arrivate fino a noi. La figura maschile simboleggia l'oceano in tutta la sua maestà e impugna un tridente governando una varca che ha la funzione pratica di contenitore del sale. La donna rappresenta la terra e accanto a lei c'è un tempio riccamente decorato nel quale veniva conservato il pepe per la tavola del re. L'opera rivela la straordinaria ingegnosità e inventiva di Cellini e il suo talento nel rappresentare lo splendore di corte. In accordo con la sua vita notoriamente tumultuosa nel 2003 fece scalpore la notizia del furto dell'opera ritrovata solo tre anni più tardi. Se il video ti è piaciuto metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici, ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!